Di missioni immediate del presidente della regione Pittela, la corsa di 5 stelle alle prossime regionali senza alleanze, il treno a Matera, in primo piano nel nostro Tg, i passaggi essenziali dell'intervista al vicepremier Di Maio ieri nella città dei Sassi. Ancora nessuna convenzione sottoscritta con la regione per l'avvio della campagna antincendio boschivo, la denuncia e delle segreterie sindacali della CISL e della UIL che lanciano un'allarme sulle ricadute negative per il territorio, le comunità residenti e i turisti. Oggi le consultazioni per eleggere l'assemblea del nuovo consorzio di Bonifica Lucano, otto le liste presentate per nominare i vertici dell'organo che gestirà l'ente da 35.000 consorziati e 4.100 lavoratori. Anche una sezione dedicata alla promozione della cultura, della parità di genere e delle pare opportunità nella 47esima edizione del premio letterario Basilicata. Novità anche nel regolamento della prossima stagione di serie A2 di Bolle e il girone A13 squadre per la rinascita Lago Negro. Buona domenica ai nostri telespettatori, ben ritrovati in studio a questo appuntamento con l'informazione regionale. Lo abbiamo sentito nei titoli, in primo piano in questa edizione del nostro TG c'è la visita ieri a Matera del vicepremier Luigi Di Maio. Nel servizio di Mara Risola i passaggi essenziali delle dichiarazioni rilasciate ieri ai giornalisti dal ministro. Vediamo. Lo sguardo al futuro e i piedi ben piantati nel presente. In perfetto orario il vicepremier Luigi Di Maio si è presentato a Matera e come da programma, dopo aver effettuato un sopralluogo all'antena 5G posizionata in via Carlo Levi, ha incontrato i cittadini in piazza San Giovanni, la stessa in cui si è apprese della nomina della città a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Un evento quest'ultimo a cui il governo centrale guarda con particolare attenzione, come ribadito anche all'inizio del mese, dai ministri Lezzi e Bonisoli, giunti nel capoluogo lucano. Il simbolo di una Matera che sarà capitale della cultura e che purtroppo non ha ancora un treno che ci arriva è un simbolo da combattere perché ci fa fare una pessima figura nel mondo. Al ministro Toninelli l'ho detto chiaramente, questa è una priorità perché a Matera vengono da tutto il mondo e verranno ancora di più da tutto il mondo. E a me interessa che questa non sia soltanto un'eccellenza temporanea per un anno perché è proclamata capitale della cultura, ma sia pubblicizzata 365 giorni l'anno non solo per le sue bellezze ma anche per l'efficienza dei servizi che portano i turisti a Matera. Con accanto parlamentari e amministratori pentastellati, il vice premier, senza neppure troppi preliminari, ha focalizzato il suo discorso sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto i vertici della sanità lucana e che vede il coinvolgimento del presidente della regione Marcello Pittella, finito ai domiciliari. Perentorio l'invito al governatore lucano di dimettersi. Non è possibile che il governatore di questa regione, Pittella, appartenente ad una dinastia politica che ha comandato questa regione per tutti questi anni, se ne possa uscire con una sospensione. Deve dimettersi, liberare questa regione il prima possibile perché non si gioca con la sanità. Guardi, non si dovrebbe giocare con nulla, ma la cosa peggiore che si possa fare in politica è giocare con la sanità perché si gioca con la vita delle persone. E se io vengo a sapere che un presidente di regione, secondo le accuse, avrebbe utilizzato la sanità come un bancomat politico, quella persona come minimo se ne deve andare a casa. Poi avvieremo pure tutte le azioni risarcitorie, ma su questa linea dura ci aspettiamo le dimissioni e chiederemo le dimissioni finché non ci saranno. Le bordate al presidente Pittella sono inevitabilmente calate in un clima di campagna elettorale e per le prossime regionali il leader dei 5 Stelle ha ribadito la corsa del partito senza alleati. Nel mezzo anche l'annuncio di nuove regole per le candidature dei pentastellati. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre scelto di andare da soli e sono in arrivo, vi do questa notizia, credo tra una settimana, massimo dieci giorni, le nuove regole per le candidature nel Movimento 5 Stelle, per candidarsi a presidente, consigliere regionale, come abbiamo sempre fatto. Io, come ho sempre detto, il Movimento 5 Stelle in questo momento è al governo non con un alleato, è al governo con la Lega, con cui ci troviamo bene, perché abbiamo sottoscritto un contratto. La nostra idea è sempre quella di portare il Movimento al governo delle regioni, dei comuni, con un progetto che è quello del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro nelle regioni e nei comuni l'ipotesi del contratto non esiste per una semplice ragione, perché qui c'è il sistema maggioritario, noi a Roma ci siamo ritrovati con una legge scellerata, metà proporzionale e metà maggioritario, e non c'è l'elezione diretta del presidente del Consiglio dei Ministri, cosa che invece c'è nelle regioni col presidente di regione e nei comuni col sindaco. Qualche accenno poi anche alla polemica sul gioco d'azzardo, i provvedimenti del governo. Io chiedo al Paese una scelta di campo sul decreto dignità, scelgano le persone ma anche le opposizioni se stare dalla parte delle lobby o dalla parte della gente che è stata massacrata dalle lobby in questi anni. Qualcuno oggi mi venga a dire che non possa abolire la pubblicità sul gioco d'azzardo perché altrimenti c'è qualche squadra di calcio che perde i soldi per pagare Cristiano Ronaldo 400 milioni di euro, abbiate pazienza, non me ne frega niente. Io abolisco la pubblicità sul gioco d'azzardo perché sta distruggendo le famiglie italiane. E torniamo ad occuparci della concorsopoli nella sanità lucana. Le procedure del concorso bandito dall'asma per due dirigenti del Dipartimento Torino-Laringoiatra, finite sotto la lente della Procura di Matera, avevano fatto scattare la misura cautelare degli arresti domiciliari per il funzionario Rosanna Grieco, misura revocata. Fanno sapere i suoi avvocati a conclusione dell'interrogatorio di garanzia nell'ambito del quale la Grieco, segretario di commissione del concorso in questione, avrebbe chiarito la propria posizione in merito ai fatti contestati. Intanto è attesa per domani la decisione dei giudici che dovranno pronunciarsi sulla richiesta di revoca degli arresti anche per il DG dell'azienda sanitaria di Matera Pietro Quinto e del direttore amministrativo dell'asma Maria Benedetto, tra i primi ad essere stati ascoltati, mentre martedì è prevista l'udienza davanti al riesame per il presidente della regione, Marcello Pittella. Nuova campagna antincendio boschivo 2018. Tra le polemiche, le segreterie regionali della FNS Cisle e della UILP fanno sapere di aver inviato sollecitazioni ai diversi enti competenti sulla materia a vale dell'esperienza di quella svoltasi lo scorso anno che ha messo a dura prova il comparto nazionale. Tenuto conto che il decreto legislativo, fanno sapere i sindacati del 2016, ha affidato la lotta attiva agli incendi boschivi all'ex corpo forestale dei Vigili del Fuoco, nonostante la nostra celerità per definire e migliorare gli aspetti del nuovo accordo per l'AIB al fine di proteggere al meglio il patrimonio boschivo dell'intera Lucania. Ad oggi si registra la mancata attivazione della convenzione ai sensi della legge 353 del 2000 che affida la competenza sulla protezione delle aree boscate alle regioni. Con la regione Basilicata, i segretari Rocco Scarangella della Cisle e Domenico Antonio Verrastro della UILP ricordano la nota inviata il 12 luglio scorso ai vertici del corpo e alla regione per denunciare l'incresciosa ed inaccettabile situazione che vede i Vigili del Fuoco di Basilicata abbandonati a se stessi. I sindacati parlano di silenzio assordante da parte di tutti. Le sole squadre ordinarie si trovano a dover fronteggiare emergenze senza l'aiuto delle squadre, rilevano i sindacalisti, a servizio straordinario, mettendo a rischio la sicurezza degli operatori. L'attuale situazione, concludono i sindacati, comporterà una ricaduta negativa su tutto il fronte del soccorso tecnico urgente a scapito dell'intera popolazione e dei turisti. Si rinnovano oggi i vertici gestionali del Consorzio di Bonifica della Basilicata. 8 le liste presentate, 3 quelle che sono state escluse. Le liste che gli elettori si troveranno nei seggi sono la nuova aurora per le tre fasce e agricoltura e vita esclusa per la prima fascia ma accettata per le altre due. Sono invece state escluse liberi i consorziati lucani e agri insieme. Complessivamente i candidati sono 53, di cui 30 della nuova aurora per le tre fasce, 23 di agricoltura e vita per la seconda e la terza fascia. Quanto agli eventi diritto al voto potranno accedere alle urne soltanto i consorziati iscritti nei ruoli della contribuenza in regola con il pagamento dei contributi consortili. La nuova configurazione del Consorzio di Bonifica della Basilicata, lo ricordiamo, è dettata dalla legge regionale di riforma con la quale i preesistenti consorsi sono stati fusi tra loro in un unico organismo. In Basilicata il Maxi Ente vede l'adesione di 35.000 consorziati e 4.100 lavoratori. First Cisle, il sindacato dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni della finanza, della riscossione e delle autoriti, ha presentato nei giorni scorsi adesso Banca. Un manifesto per la tutela del risparmio e del lavoro, come sancito dalla Costituzione negli articoli 41 e 47, la Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme. I recenti avvenimenti del sistema finanziario, si pensi tra tutti alla crisi dei mutui sulle prime e alle conseguenze in termini economici occorse a livello mondiale per le imprese e le famiglie, hanno invece minato la fiducia dei risparmiatori. Proprio per questa ragione, First Cisle ha dato vita all'iniziativa che si propone di sensibilizzare le maggiori banche e i gruppi bancari italiani in tema di sviluppo economico sostenibile centrato su una concezione etica degli investimenti come anche delle professionalità. Sentiamo le interviste. E' un documento molto importante perché tiene conto dell'evoluzione presente e futura della banca. Peraltro l'associazione bancaria italiana che qui oggi rappresento è molto sensibile a questa tematica. Peraltro è stato stipulato proprio un accordo tra l'ABI e le sigle sindacali proprio sui temi dell'attenzione a quelle che sono le nuove modalità di esercizio dell'attività creditizia. E' una proposta che abbiamo avanzato quindi ovviamente in primis ai banchieri ma tutta la politica attiene quindi a una modifica quindi dei regolamenti ma anche a nuove leggi che possano andare a modificare il diritto societario e anche il diritto penale. Nell'ambito quindi del sistema banca-impresa così come è prevista dal testo unico bancario dovrebbe apportare dei fondamentali meccanismi quindi correttivi volti a salvaguardare la funzione sociale della banca. La banca è nata quindi per essere in mezzo alle persone, è nata per tutelare il risparmio, è nata quindi per erogare correttamente il credito. Ciò che non sta accadendo oggi. La linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Nuova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. 9 impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza per informazioni il sito noveimpiantipotenza.eu mail info chiocciola noveimpiantipotenza.eu Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Complesso saloni da barba e matrimoni, il nuovo lavoro di Graziano Accinni in abbinamento facoltativo con la Nuova del Sud. Dalla Mazzurca alla Polca, dalla Quadriglia alla Tarantella, un'opera sulla grande tradizione musicale lucana. Ritmi immortali da ascoltare ovunque, complesso saloni da barba e matrimoni, il nuovo lavoro di Graziano Accinni in abbinamento facoltativo con la Nuova del Sud. Riprendiamo il nostro Tg con la pagina della cultura presentata a Potenza la 47esima edizione del premio letterario Basilicata. Tra le novità una sezione finalizzata a promuovere la cultura della parità di genere e delle pari opportunità. Un premio di narrativa finalizzato a promuovere la cultura della parità di genere e delle pari opportunità. E questa è la principale novità proposta dalla consigliera regionale di parità Evana Pipponzi della 47esima edizione del premio letterario Basilicata che è stata presentata in una conferenza stampa a Potenza nella sala B del Consiglio regionale. A fare gli onori di casa, Santino Bonsera, presidente del Circolo Culturale Spaventa Filippi che organizza il premio, e il presidente del Consiglio regionale Vito Santarsiero. La cerimonia per le cinque sezioni sarà divisa in due serate. Il 27 ottobre a Guardia Perticara sarà consegnato il premio per la saggistica storica lucana intitolato alla memoria dello storico Tommaso Pedio. Il 28 ottobre nel capologo lucano all'auditorium del Conservatorio Gesualdo da Venosa saranno attribuiti gli altri riconoscimenti. In questa occasione sarà ricordato il giornalista Rai Rocco Brancati, morto lo scorso 18 aprile, presentatore del premio e membro della sezione di saggistica storica. L'ormai tradizionale premio Città di Potenza, sostenuto dalla BCC Basilicata, sarà destinato invece ad una tesi di dottorato in glottologia e linguistica discussa nell'Università degli Studi della Basilicata. Per Guardia Perticara, come sottolineato dal sindaco Angelo Mastronardi, ospitare il premio Basilicata sarà una straordinaria occasione per promuovere la propria cultura e il proprio territorio. Per noi è anche un motivo per dire che nel nostro territorio del Sauro c'è anche tanta cultura, tanta archeologia, tanta bellezza da poter scoprire e valorizzare. Nel nostro territorio non sono state trovate solo tombe di enotri, ci sono anche delle tombe relative ai lucani, anche ai greci, anche ai romani. Adesso nel mese di settembre saremo impegnati in una mostra, perché siamo gemellati con San Gimignano, quindi porteremo alcuni reperti archeologici a San Gimignano, precisamente il 7 settembre, starà lì la mostra fino a metà gennaio. Ed è anche in quell'occasione un'opportunità grandissima che ha guardia, ma non solo guardia, il territorio del Sauro e la Basilicata, di inserirci in un contesto, la Toscana, che ci avvicina e quindi dà l'opportunità anche ai tanti guardiesi, ai tanti lucani italiani di apprezzare e conosce il nostro territorio. E la principessa Siri qui ci dà l'opportunità anche oggi di essere la nostra testimonia, il nostro punto di forza, perché nel nostro territorio è stata trovata questa tomba, gli archeologici stanno lavorando anche sui test e quindi ci sono delle fonti attendibili con tanti ritrovamenti di oggetti, anche di tempietti e di gioielli che testimoniano anche la presenza di non solo dei guerrieri, ma anche di personalità famosi, importanti, che comunque hanno fatto grande quella nostra parte del territorio. E sarà possibile godere e vivere in modo innovativo il Parco archeologico di Venosa grazie a Inventum, un videogioco 3D. Sentiamo Celestino Benedetto. Una nuova modalità di conoscenza, un videogioco in realtà aumentata e nuovi pannelli informativi. La fruizione del Parco archeologico di Venosa diventa tecnologica, interattiva e a impatto zero. È stata infatti inaugurata nella città di Orazio la nuova vita del Parco, con la presentazione al pubblico di Inventum, il videogioco in realtà aumentata, realizzato da F9, società di produzioni cinematografiche in collaborazione con il polo museale della Basilicata. Inventum è legato ai sei pannelli informativi che dettano l'itinerario di visita tra le rovine e che sono stati rinnovati nella veste grafica e nei contenuti. Scaricata l'app gratuita, il visitatore può puntare il suo smartphone sui singoli pannelli ed essere guidato nell'esplorazione dei luoghi da un cicerone d'eccezione, Roberto Il Guiscardo. Durante il percorso si possono incontrare personaggi storici, acquisendo informazioni culturali necessarie per collezionare alcune pietre disperse nel parco e riportarle laddove sono realmente incastonate, fra le mura dell'incompiuta, il complesso mai terminato che si trova alla fine del parco archeologico. Arrivato all'ultimo quadro all'interno dell'incompiuta, per completare il gioco l'utente sarà chiamato a sciogliere un enigma e trovata la chiave di Inventum potrà vivere una nuova esperienza originale, come in un paradosso vedrà magicamente fondersi realtà e immaginazione. Sarà invitato a riporre lo smartphone, guardarsi intorno e vivere a pieno, il fascino del patrimonio culturale con una nuova consapevolezza e incanto. Nella pagina sportiva c'è la pallavolo, girone a 13 squadre per la rinascita Lago Negro che ha scoperto le avversarie della prossima stagione di Serie A2 in cui sono previste tante novità a partire dal regolamento. Sentiamo Luigi Santopietro. La terza stagione di Serie A2 per la rinascita Lago Negro riparte in bianco e quello infatti il girone in cui è stata inserita la squadra balnocina che quest'anno proverà a inserirsi nella lotta play-off, anche se l'obiettivo ovvio è quello del mantenimento della categoria. Occhio al regolamento che quest'anno si rinnova per aprire alla costruzione della Serie A3 a partire dalla prossima stagione. Sarà un campionato molto particolare quello della Serie A2 che decolla ufficialmente al volley mercato la prossima settimana. Intanto perché è il più ricco campionato di A2 della storia con 27 formazioni che unite a quelle di Superlega portano a 41 il numero dei club iscritti al 74esimo torneo. Divise in due gironi, tradizionalmente il bianco e il blu, le squadre giocheranno una regular season a 26 giornate per poi iniziare un doppio play-off. Le prime quattro classificate di ciascun girone giocheranno il play-off promozione per un posto in Superlega. Le perdenti sono iscritte alla A2. Le squadre classificate sia dal quinto al dodicesimo posto, sia bianco che blu, entreranno nei play-off Serie A2 che confermerà le due squadre vincitrici alla successiva Serie A2 in cui è scritto di diritto il Club Italia. Tutte le altre squadre formeranno insieme alle neopromosse dalla Serie B la nascitura Serie A3. I gironi di A2 sono stati ordinati per ranking con cui è avvenuta la divisione. Nel girone bianco, formato da 13 squadre, è previsto un turno di riposo ad ogni giornata. Il 19 luglio l'evento La Prima Battuta presenterà la stagione oltre ai calendari di Superlega e Serie A2. Questo il girone bianco dove oltre alla rinascita Lago Negro giocheranno Santa Croce, Brescia, Spoleto, Alessano, Mondovì, Potenza Picena, Reggio Emilia, La Mezzia, Leverano, Roma, Livorno e Macerata. E in chiusura vi ricordo che si chiude questa sera il Festival della Birra di scena da venerdì scorso in piazza Mario Pagano a Potenza. Un'iniziativa all'insegna dell'enogastronomia promossa dall'associazione MAS con il patrocino del comune di Potenza all'interno della rassegna è stata in città, in piazza, stand con cucine a cielo aperto italiane e internazionali e una vasta selezione di birrifici fino a mezzanotte. L'ingresso è gratuito, si potranno gustare specialità tipicamente regionali come la bombetta pugliese di Alberobello, arrosticini abruzzesi, la fruttura napoletana e le specialità della cucina calabrese con anche piatti gluten free e tanto altro, compresi i dolci. Tutte le prelibatezze culinarie potranno essere abbinate all'ampia scelta di birre con uno spazio per i produttori artigianali italiani ed eccellenze da tutto il mondo dove i visitatori potranno seguire il proprio percorso alla scoperta della bevanda più antica del mondo. Dell'ultima notizia si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo la prossima alle ore 19 e a tutti voi l'augurio di una buona domenica.